Tu come ti chiami? Filippo! Filippo, tu l'hai fatta la didattica a distanza? Sì, anche a me. Vuoi venire? Vieni, Filippo. Come è andata la didattica a distanza? No, ma se andi sta, poi togli la mascherina, se vuoi, se ritieni. Mi piace molto questa mascherina. Andiamo al Villa Papete dopo. Ti voglio bene, non abbiamo solo una gioventù che si ammazza di canne.